Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra maglia storica spettacolare. Questa è la seconda maglia dell'Argentina del 1998. Vediamo un'altra maglia storica. La maglia è stupenda. Tra l'altro di uno dei miei calciatori preferiti dell'epoca, Battistuta, al costo poi che vedete qui sopra, beh, un affare imperdibile. Andate a vedere perché in descrizione, oltre a trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia, trovate anche un link per ottenere un coupon di 3 dollari. Quindi questa maglia diventa ancora più vantaggiosa. Prima di lasciarvi alla parte finale, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di farvi vedere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie! Grazie!